Sono Alessandra Maggiori e faccio l'impiegata in un ipermercato. Io ho già fatto altri eventi con Patrizia e sono iscritta all'intensivo Vita Straordinaria e quindi ho proseguito in questo cammino, perché siccome in questo periodo ho fatto un grande lavoro su me stessa grazie al percorso che avevo già intrapreso, volevo andare più a fondo e proseguire nella mia crescita. Io non sono più la stessa da Primo DC Live che ho fatto a Rimini nel 2019, perché ho imparato a guardarmi dentro e a fare introspezione e quindi sono cambiata anche al di fuori sicuramente nel mio comportamento. Mi porto a casa delle emozioni fantastiche, ho imparato a stare con gli altri in gruppo, perché l'energia del gruppo crea un'armonia pazzesca e mi sono anche messa in gioco nel fare delle prove e quindi superarle senza sentirmi sempre a disagio o non giusta. Sicuramente cambieranno i miei atteggiamenti l'insicurezza, perché sono sempre stata molto insicura di me e adesso ho preso una consapevolezza diversa e quindi sicuramente sarò diversa. Adesso so dove voglio arrivare, cosa voglio fare e quindi non mi ferma più nessuno. Non sarò più l'Alessandra di prima, adesso sarò determinata ad andare avanti nella mia crescita personale e riscoprire veramente chi sono e tirarlo fuori. È stata fantastica, è emozionante, fantastica. Io voglio ringraziare Patrizia perché da quando l'ho conosciuta, grazie alla sua presenza costante, al suo impegno è il fatto che per aiutare gli altri è sempre disponibile e mi ha fatto vedere le cose in modo diverso e quindi mi ha fatto crescere e cambiare. Quindi io la ringrazio e l'abbraccio.